Sapete cos'è questo piestrino? Questo piestrino viene utilizzato per verificare i metalli preziosi in concomitanza con questi acidi a seconda delle tipologie Ora questo è un sistema che è diffuso per circa il 95% dei laboratori e gioiellerie Purtroppo è estremamente nocivo perché libera nell'aria degli acidi Tanto più in ambienti che non sono quasi mai aspirati Inoltre è assolutamente approssimativo in quanto la considerazione del metallo, della qualità dell'oro è totalmente visiva In una visione moderna del laboratorio al quale interpretiamo abbiamo due grosse problematiche L'una è quella della salute La salute per chi ci lavora è qualcosa di molto importante con la presenza di acidi E l'altra è l'imprecisione di tale sistema Abbiamo risolto con questo modello macchinario che è uno scanner XRF che ci permette un'accuratezza dei titoli del metallo presente analizzato in termini percentuali che oggi da un punto di vista professionale è indispensabile Quali sono i benefici? Beh, una macchina così accurata apporta molti benefici Intanto le molteplici gioie con cui collaboriamo si avvalgono di verifiche di oro vecchio verghe, analisi accurate di gioielli che acquistano semi lavorati, montature Per chiunque è importante sapere la tipologia di gioiello ma anche a livello di laboratorio con un restauro è importante poter analizzare il gioiello quindi con le varie composizioni dei metalli perché si tratta sempre di leghe che determinano un colore specifico cioè fare un restauro dopo un'analisi noi possiamo riprodurre esattamente quel colore non qualcosa che è a volte anche profondamente diverso Questo ultimo tassello si innesca perfettamente in una filosofia di interpretazione moderna e contemporanea dell'orfo che mette al centro le esigenze moderne dei fruitori di gioielli che non possono essere, come dire, soddisfatte con vecchi sistemi di tecnologia Quest'ultimo gioiellino tecnologico si accompagna con il resto di laser CNC che fanno di noi un laboratorio all'avanguardia Saluto a tutti Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale